Distrutto lo scudo a quell... Un boffone mi sta sparando Bomba grappolo in arrivo Dove? Mi hanno distrutto raga porco 2 Stavo a settare le robe cristo Eh sono un coglione Niente è mia colpa Sono bravi A terra Eh ma un fanculo Mi bloccano porco 2 Eh ma erano anche bravi questi Quando mi sparano Forse il mio personaggio Comunque No I personaggio sparano tutti uguali Quindi torno a me Ogni volta che mi sparano Mi blocca il personaggio Come se blocca proprio Danno e movimento Sono tutti lì A parte la velocità In In alcuni Che sono un pelo più veloci Che è la loro specialità però Ok Ci siamo Ci sei? Sì sì Ok scusatemi Bello questo sfondo Ciao Alessandro Bella Omar Faccio un mesetto di multistream Vediamo come va Salvatore buonasera Valordo buonasera Scusate ma mi è esploso tutto Da una roll it È proprio il pc da streaming Devo abbassare i bitrate Delle live Pensa cosa fare Omar Subito con la resab Mamma mia Quando sei arrogante Sei mesi Beppe Eh me lo merito Omar Me lo merito Allora Me lo merito Sono in arrivo Grandi cose per noi Fatemi far subito una roba Quei rimambiti Se la faranno sotto Dalla paura Sistemare subito La webcam Quella grande Eh bravo Vedete sistemate Bene Ma che possiamo guardarli Anche perché non abbiamo Le abilità Per farlo Alla per te Dì alla dema Di non guardare i film In streaming Sono la jump master Io lo cario Quando devo Vedi la corviore Netflix Oh chipper Vamonos Madonna sto sudando Raga Inizia a fare Veramente caldo Comunque Dove vogliamo Scendere Io scenderei Qual bunker Dove voi Ciao Gianlu Ah c'è la cassa Ecco Tenete duro E' ora di scendere Stordire e spaccare Grazie Salva Ma dov'è Siamo qua Dove non c'è la cassa Eh Ma sai che siamo due Ah no C'è un team Nell'altra entrata Occhio Eh Dalla tra bar Ok Qua c'è il corrido Bella 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 One shot da te Accesa C'è acceso Me l'ha inculata brutta questa Ho fatto 90 di danno Su 150 di vieta Ma no Uccisione confermata Un altro successo Gran bel lavoro All'ultimo Ricarico 11 di danno Per Livellare L'armatura Dov'è l'ultimo La 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 Aspettalo qui Aspetta Renn Viene a prendersi bundle A meno che non è un lifeline Un curatore E' qua dentro raga Sto a fare molti stream Deniz Scazzo ridi Bella Angelo Ciao Matte Buonasera a tutti raga Ma vaffanculo Comunque Fa molti stream E' buono Cioè Abbiamo avuto una media Sempre di 150 130 Spettatori Picco 250 Cioè Buono Un culo Buono Ma non capisco Sta cosa Che cosa Perché Sto piccolo Spettatori Quando L'hai detto Per un mese e mezzo Due Perché se la gente Non si vuole spostare C'è poco da fare Ok Quello Non è che deve Vagare qualcosa No Quello No Gente sotto di me Là Nemico Due team Aspetta Aspetta Lancio Termini Lo sentite Sto parecchio Lancio 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 L'ho Sticcata Una Sì 75 Uno Un'intera Da me Falterci Avanti Te l'ho messo giù Te l'ho messo giù Allo scudo viola Questo Gran bella Sto ricaricando Uno là sopra Sta salendo Mi lasciate I colpi piccoli Uno a sinistra Servono Tieni Da questa parte Andiamo Prego Prego Andiamo solo 15 Sto ricaricando gli scusi Ecco il tuo regalo di compleanno Arriva la cosa Vado al volo alla mia cassa Che è qua davanti Più che posso Devo fattura A denis Buonasera Sgan away Approfittatemi Sgan away Loro l'hanno beccato Ci sono saliti Sì ma erano due team Eh Il team quello che è rimasto Molto probabilmente è salito Eh no Io di casa ne ho visto solo due Quindi vuol dire che secondo me Un team Non è stato Che ho diventato prima No no Quelli che sparavano a me Uno Era un team intero Qua nella smoke Eh ne ho fatti due io di quelli Eh ne ho visti salì Ne ho visti salì Una a destra là E una a sinistra Dove è stata un amore Quindi probabilmente Sono divisi tra tutti Là 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 sopra Se sparano Andiamo là Passiamo sopra di qua Sopra gente Sopra di me È buono Il pc Sgana Qua dentro Uno Uno qua dentro Tirato l'alti Ho tirato l'alti Chi va fate Mesto a piastrà Andiamo subito a buscare Questo qua dentro Credo che sta arrivando Va dentro Sta arrivando Madonna Ma ha distrutto Uno Uno intero da me Sono tutte e due One shot scesa A terra lui Manca l'ultimo Mi devo fare un fenice Andate a buscare Andate a buscare Ne manca solo uno Gigi raga C'è un altro team Mi sembra di sentipassi Occhio La smettite Prende il per tre Non l'ho toccato Io il per tre Non me lo fa a me Ecco perché Mi serve un'arma Decento Arre 99 Meglio Ne ho ammazzato uno Mi servono assolutamente i colpi Sto a zero di colpi Leggeri Energetici Leggeri sto pieno io Inizio con la rovescia Qui ci sono munizioni leggere Siamo già nell'anello Gente Vi offro da bere Per festeggiare Sì Questi stavano Proprio una merda Corriarli Attenzione Replicatori Arrego Guardate Replicatori Qua davanti Si sparano a manetta Qua davanti Raga Faccio piccoli qua Griletto a doppio sparo Qua 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 Uno qua Un seconda L'ho ulto No no Piovanti Piovanti Ok Lì Sono due almeno Pronti al bombifragio Attenzione Allungo Spero di averli chiusi A destra mia A destra mia Qua sotto Uno Uno è già lì Qui c'è un nemico Fuoco Straccato C'è un nemico Questa Non mania Non se può Ha l'emlock Questo Matte Qui c'è una Cassa della morte Bello 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 Aia Sono due qua Sono morto Porco Due in due Ho preso il salto L'altro mi finisce Quando me Mi vuole finire Porco Due Che coglioni Che sfiga Arriva un altro Personale dietro Aspetta Fai riflettare loro C'è lì Qua dietro Di te Batte Proprio Prova 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 Ressa accesa Mi conferma Questa Recupera i banner Recupera i banner Ma Vaffanculo Oh Ma Porco Due Raga Ho preso Il salto Per prendere Il tetto Erano in due Sopra C'è mi hanno inculato Brutto Io ho stelato Un po' di Chi la matta Peccato Porco due Peccato L'avevo iniziata Benissimo Nesta partita C'è di merda Poi 4 kill Tutto De botto E cos'è che hai dovuto fare Per fortuna L'ho tutto a posto Troppo Mi smonto di nuovo Devo mettere Raffreddamento Liquido Sempre liquido Raffreddamento Sempre Raga Facciamogli vedere Chi siamo Gente Andiamo Abbiamo del lavoro Da fare Ricordate La battaglia Non c'è solo Quando vinciamo No Guarda che Eravamo arrivati A oro e passa Noi Lì E che hanno fatto Il wipe Della stagione Quindi i livelli Ancora non sono Calibrati C'è A platino Platino anche Sì Sono arrivato Anca a platino Non so da quando Iniziate la season Però non Beh c'è Questa qua Non è gente bronzo Beh c'è gente più forte Anche Private platino Sì comunque No mi sono già lanciato Porco due Matteo Tutti pronti Ci lanciamo Vediamo vediamo No solo Due Ce l'ho Ce l'ho 1 49 Rosso Eh ma Pushato l'altro Raga Ma cesa Alla tua sinistra Ma Matte Stavo curando Aspetta Aspetta Matte Vieni Ha fatto il giro Quello Ha fatto il giro Era a sinistra Era a destra No Oh Regà Non sono deficiente Ma ha fatto da sinistra Alla tua sinistra C'è Sei presente che tu stavi Oldando quell'angolo lì È salito dalla tua sinistra Lì accanto a te È passato E poi ha fatto il giro Dall'altro lato Eh porco due Sex Mica sono scemo Non lo so In due L'abbiamo visto a destra Sto facendo multistream Fabio Poi bisogna scaldarsene Scusate Mi hanno abbassato La qualità di Twitch No sto a fare Multistream Devo sistemare bene I bitrate Gazza Domani Per domani Sarà tutto a posto Penso Andiamo Facciamogli vedere Chi siamo Gente Ecco il campione Cristian De Sintra So cosa fare Laggiù c'è una capsular Tutti pronti Ci lanciamo La grazia No sotto Ci stanno Tre casse Anche Vado Io c'ho il peschi Per non lo so Usare Ma qua Non è No loot Dove c'è Il loot Alto Qui c'è Un opap Turbo Compressore Terato Devo Un caricatore Pesante Che lascia Di me Viola Riesce Nel Un attimo Non altro Buono Un culo Il caricatore Oro Guarda qua Qui c'è un caricatore Leggero esteso Livello 3 Scudo blu Sopra Qui c'è un calcio Standard Livello 2 Zaino Oro Zaino blu Lasciato su E' un caricatore Energetico Viola Ma io R99 Triple take Qui c'è un calcio Standard Livello 2 Qui c'è uno Stabilizzatore Canna Livello 2 Fantastico Siamo tutti Dentro questo Anello Ah no Siamo tolto Il 1080 Allora lì Prova a chiudere L'applicazione E riaprirla E vedere se c'è La connessione A posto Cioè se il wifi Ha le tre tacche E tutto Si sparano davanti a me Eh non ci sono però Sono lontano Vai mi metto col triple take Intanto spararie Capsula assistenza in arrivo Mamma mia C'è un team qua all'angolo E' un team Alla destra Del mio ping Anche da me No c'è gente da me Dai però Ma io non ho capito Perché siete andati giù A sinistra Cioè Matti Perché sei andato giù di lì No 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 Punto In un'altra parte Non mi metto armi Perfettare recentemente Cioè c'è un long boot A lungo Senza mirino Dai andiamoci un attimo Non te lo posso craftare No ma aspetta Forse riesce a recuperare Il banner direttamente No Si allatta Quella A colla Nemico laggiù Sì sì Vabbè 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 Attenzione C'è un nuovo leader uccisione Come questi ce ne vengono Nuovo leader uccisione Non mi dispiacerebbe fargli una visitina Vai 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 C'è stato una granata Craccato 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 Questa sinistra Quasi craccato L'altro A terra uno A terra A terra L'altro l'ho fatto io Una nade non ce l'avete No non ce l'ho Vai 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 Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Perché Può push al volo C'è stato attaccato C'è stato attaccato C'è stato attaccato Un altro team GG raga Ma era un altro team allora questo qua Perché io ne avevo fatto Ci sono ricurati Eh no io ne avevo fatto e confermato uno raga Non vedo l'altro team Eh ma mi è sparata dal tubo mi sembra Da dove c'è il drago Non lo so allora ragazzo Quale possa essere il problema sinceramente Dai 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 No merda Ma merda sapevo Eh volevo cercare degli shield che non ho Dai c***a croia voi Sì comunque col c***o Col c***o che queste sono lobby bronzo raga eh No no Non c'ho shield Non c'ho un c***o Ma qui hanno già luttato poi Qui non c'è nulla Eh non avete neanche crafter raga C'è Non c'è neanche crafter Non c'è neanche un crafter Eh suuuu Non posso neanche piringarvelo Due C***o sta Qui c'è una cella scuda Ma qui c'è una cella scuda Ma qui c'è una panica C'è nemmeno Campione fuori gioco Ho provato a mandare Alla ultima Magari mi dà qualche Ah una cella grande Te la dà scuda Ehm Qui c'è uno scudo corporeo Livello 4 Ehm Quindi crafter Ce l'abbiamo fuori safe il crafter Andiamo un attimo Tanto c'ho C'ho l'hichid Ok C'è gente che ancora fighta lì eh No no Sono a destra Sono a destra Sono a fight Un po' lì a questa No ma infatti vai te No perché devo venire anche io Scusate 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 Ehm Scusate Guarda un po' Un attimo in red Ehm Sono dentro la team Non so perché Me l'ha Me l'ha levata Dopo qui Nuovo leader in cisione Stiamo attenti Eh dentro la safety Scusate Eh ma sembrava dentro le cild Eh ma sembrava dentro le cild Eh ma sembrava dentro le cild Più 40 sono No È restato tu La c'è Sì No colpo i piccoli Ma davano colpi i piccoli Grande Grande Raga provo ad andare al volo Alla mia cassa dietro là Eh ci sarebbe da curare la cassa mia la qui Mi infiglio il mast Mi infiglierò Mi lasciato giù il long walk Con uno stabilizatore viola Non è lì in chiusura Non ce la farò mai Fende la pade folgo 3 grazie per il follow ce l'hai il robot vero da tirarmi ma non abbassate la guardia si si arriva arrivo almerino quello raga avete colpi piccoli voi ancora qua la ulti così le prendi l'armor buono buono un culo l'armor blu c'ho la cosa andiamo andiamo raga andiamo verso la safe va bene va bene tranquillo faccio il giro un problema se c'è qualcuno lì a destra siamo 5 team pochissimi 100 più 100 ma sono 5 team è impossibile che siano così pochi come mai eh vabbè manco tanto eh terza si in effetti o c'è solo la lobby dei pro player o c'è un chatter c'è un chatterino insomma c'è anche solo qualcuno di bravo per forza un chatterino anche se ultimamente è pieno Apex si madonna mi serve uno anch'io ma che nana ma che voglio provare ad andare la mia cassa raga ho bisogno di non ci mettiamo in mezzo no 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 qui c'è un v-skeeper eh ho sbagliato i forchi erano fornimenti extra da questa parte non c'è di che oh c'è un negozio là qui c'è un mercato nero svaliggiamolo andare a provare a guardare lì c'è un buffone carattina si sta muovendo l'assistenza in arrivo ci avete il centro sembra che ci sia una cazzula assistenza in arrivo non mi fanno mettere il mirino qua qua oh questo mi serve un mirino te l'ho visto nella cassa tua Ren si un per due uno per due vogliono s... ah no devono scendere eh ah raga guardiamoli qua perché devono scendere questi si venite con me mettiamoci qua tipo eh ma ci hanno visto eh c'è uno là sopra che 55 viola uno oh sono già scesi eh guardali qua da me qua da me uno è già passato qua da me uno eh occhio è là in fondo mi sembra dov'è che è l'altro usciamo lì insieme raga arrivo quasi craccato c'è il compagno più lontano che mi spara sono due eh no è il nostro che hai corso via regalo in seguito in due si la 55 viola tutte e due no il secondo ancora non l'ha preso eh si si tutte e due stanno là ok buttami il robot al volo che non uso le cure o meno rilascio drone di guarigioni ricarico gli scudi ricarico gli scudi bella ma te bella Renna vaffanculo sto chiamando una capsula assistenza ci conviene tornare su da un po' più grande vabbè ci danno viola grazie di avermi levato tutto siamo tutti dentro l'anello io ve lo so tanto mi fanno sparando che non ne ho attenzione dolore in arrivo ne abbiamo anche sopra eh raga eh troviamo eh troviamo dietro da là eh aspetta aspetta perché questi quali dobbiamo zonare eh ma ok ci arrivo pure da dietro si ci arrivo pure da dietro eh speriamo se bene spassò no c'è un team da un altro team da sopra venite qua dentro raga avete un team sopra destra lì ci hanno scarnato da dietro quasi graccato uno arrivano da qua eh raga uno è lì dietro sto cazzo di mirino non lo so usare porco due fammi swappà un aggrappolo in arrivo ho visto mi stanno sparando una terra di quelli sopra ok ricarico gli scudi eh avete scudi piccoli? mi sto curando mi stanno girando a me devo arrivare da voi dai grandi vabbè siamo se regà abbiamo la ho uno qua da questa parte andiamo uno lo gramma ok passa qua Matteo ci fa il giro da qua sicuro andiamo da quella parte bomba grappolo in arrivo gente eccolo granata a frammentazione 55 eh vedi che questo che questo mirino è un'altra storia è qua dentro andiamo da questa parte attenzione bomba grappolo in arrivo siamo dentro l'anello bomba grappolo è uscito è quasi graccato sto ricaricando guardate questi raga guardiamo questi teniamoci l'edificio di copertura e guardiamo questi perché ci stanno sparando è qua dietro uno vorrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte uno è ancora rimasto sopra è rimasto si è mi spavano quelli sopra oh han pushato han pushato uno craccato eh son due raga porco demonio va bene dai abbiamo fatto bei punti c'è armor viola io armor bianca luce è morto prima io dai ma che cazzata è dai va bene raga io sto a sparare un po' storto ve lo dico oddio a questo no però armor bianca marco 2 non è possibile quanto sono belle queste cazze di mamma mia scusate stavo orando per battaglia mamma mia quanto sono belle le skin di Apex comunque mamma mia giuro mi fanno sburrare raga su Apex sono belle altro che code f*** le skin qua altro che code barumaru grazie per il follow benvenuto Walter Fuse Fitzroy al vostro servizio Gazzà lascia la vera stai indirettante eh ho 950 down ok in download e 550 in upload io ho 100 Gazzà spostati senta come c'è la flex si 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 connessionato di merda fatemi fumarmi una mezza sigaretta andiamo un po' più avanti Lox grazie per il follow benvenuto andiamo al condensatore non ci credo complimenti siete di immettere soprattutto degli amici fantastici andiamo da te ma il sito dello schiavo c'è nessuno raga perché scende questi posti io non l'ho presa la sigaretta non vuol dire che se tu non stai fumando allora eh no ma potevate dirmelo porco dio mi pigliavo anche la sigaretta ci sono ritornimenti extra approfittatene ecco ci troviamo un po' buono sicuramente ecco ciò sta cosa faccio nemesis brawler come i vecchi tempi beh io trovo già le armi per tutta la partita se non muori sicuramente chi è a bomba? io attenzione il campione è stato eliminato campione fuori gioco dai l'R99 un minuto l'anello è vicino qui c'è uno stabilizzatore canna livello 2 eh quello mi servirebbe ah no ce l'ho già l'anello è vicino mancano 45 secondi oggi fila tutto liscio come l'olio oh era bella attenzione c'è un nuovo leader uccisioni qui c'è un caricatore pesante e steso livello 3 nuovo leader uccisioni guardatevi le spalle per me si può già andare raga qui c'è un caricatore pesante e steso livello 4 non mi serve ma bello bella giorgio a piacere animalo il caricatore già ce l'ho andiamo da questa parte che ne dite no non me lo pinga ok devo andarci vicino per farlo scudo evo qui livello 2 molto bene come ti arriva lassù sono le scale le rampe come via troppo complicato altri modi di tutto vabbè dai andiamo da quella parte capsula assistenza in arrivo che fatti mi ha la grappa guardate così poi prendo quella oro con la ultima avete scudi termici voi però sì perché io ho preso il salto non c'ho voglia di camminare ma sì ho raccolto dei materiali dovremmo andare da questa parte sto pie... niente scherzavo sto creando qualcosa un attimo guardate ho raccolto dei materiali guardate con un salto ce l'abbiamo qua davanti venite da me che abbiamo il salto raga arrivo ho raccolto dei materiali ci sono ritornimenti extra approfittatene ho dei medikits qualcuno può servire no ce l'ho ce l'ho quelli grandi ce l'ho ce l'ho ecco il tuo regalo di compleanno ma va sempre a blu ma la data sto perso che merda ma che c'è un altro pallone là sa che siamo proprio lontani dalla gente che palle ma è strano però di solito un po' si sparpagliano cioè qua di solito in queste qua andiamo da questa parte che ne dite invece c'è tutta una luce tutto termico te lo volevo tutto termico qui ci sono risorgimenti extra approfittatene finisce no ce l'ho già finisce anch'io non mi piace voglio il per tre no cazzo c'è uno loot anche qua porco due raga capito anche qui è un punto dove la gente di solito scende c'è tutto uno loot ma che palle 11 squadra dove sono c'è i laboratori proprio dall'altra parte della mappa chi è acceso mai più John Master no immaginavo tanto è sempre colpa tu è acceso sempre colpa beh chi è sto qui che ci fai su place sono io sono io mi serve un calcio se lo trovate gesto è da me gesto è qua si 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 raggiunge un pagliate un altro sopra un altro sopra ricarico gli scudi guarda quella è un altro da lontano crackato quello è è letteralmente one shot uno è morto è morto uno è morto uno io sono a terra crackato crackato quello ti ho tirato l'alti eh no 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 c'è l'ultimo no c'era l'altro team c'era pure no è l'ultimo no no erano altre delle tre persone no erano due uno l'ho messo giù io sei sicuro stavamo fightando con due team infatti vado a farmi un drum mo l'arrivo però le partite che iniziano un fight poi muori sempre al flimo fight comunque cesa tu eri ci dividiamo uno di noi si divide sempre c'ho gente sopra c'ho gente sopra c'è andato dall'altro lato come cazzo faccio io mi lasciano appena mi sposto scusa via diavolo porco e come faccio c'è due volte del trasporto era gop mirare puntare fuoco sono frutta ricordate dobbiamo guardarci le spalle sapete dove ho imparato tutto quello che so a scuola di botte ecco il campione vi spezzerò il cuore e poi tutto il resto bello non c'è è andato via è arrivato al parco di scampia no vieni qua se vuoi niente di personale qualcuno doveva pur perdere e non potevo lasciare che fossimo noi ma cos'è cos'è tutto questo concerto qua che sta parlando vieni qua more tenete duro è ora di scendere stordire e spaccare ma what adesso sigarette c'è la mente due team vengono con noi no no vengono e l'altro viene con noi fermati qua chi sta sperando a chi e vado verso di là eh dai però rega come cazzo si prende quello eh il giampino è in fondo alla discesa eh ma non riesco a prenderlo eh no non lo prende oh hanno busciato ando alle ciance bomba grappolo in arrivo uno ancora là hanno busciato qua da dove stavo prima io qua sotto sono a terra vabbè 8 sì 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 eh ho fatto anche il secondo ma ho fatto il terzo porco due porco fuori di matto ragazzi fuori di matto la mozambica la mozambica la mozambica lo sapevo io che c'era la finestra chiusa avevo caldo madonna amore madonna mia tipo te che mozambica sembra giusto dai raga dai raga porco due anche lì mate chiuso sono salito su per restarti c'avevi un nemico davanti ma chiamamelo non l'avevo visto era dietro c'è se c'è un po' basso ricordati dobbiamo guardarci le spalle ecco il campione c'è un po' c'è un po' c'è un po' a morire tanto condensatore tenete duro è ora di scendere stordire spaccato dal posto di merda allora siamo d'ultima di un po sicuro ricevo bagliaccia non c'è di che c'è l'uno davanti a me scudo viulo scudo viola distrutto arrivo buono fatto anche l'altro così cazzo raga così non l'ho visto scusami ecco la medicina bisogna di munizioni leggere ricarico gli scudi eh io ne ho 37 di scorta 45 secondi l'anello non è vicino in marcia signorine qua dentro non è luttato però andiamo subito assolutamente si lascio un caricatore pesante blu livello 2 per una buona base di fuoco campione eliminato più alto il piedistano ci siete raga se fai tono qua dietro la attenzione va davanti a me aspetta aspetta aspettate 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 sì 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 sono qua a luttare io tanto sono qua davanti morto subito uno no me l'ho sparato in due ho smoccato vai tranquillo sono pieno io ci siamo dobbiamo farli entrare a loro ci hanno diviso ragazzi devo farmi e mi devo curare mi stanno a fare lancio un fumogeno catalista è cercato l'altra give up pompe lo give up sceso mi hai chiamato give up e poi sei tornato a fightarli cazzo stavate a fightarli io ero in fondo no ma io sono scappato io quando hai iniziato a fightarli stavo dietro di te eh cioè stavo give up and io brutto proprio non era male questo comunque questi non erano male arrivo sono entrati bene sono entrati chat siete vivi siamo in 80 90 porco andiamo prendiamoci questa vittoria andiamo abbiamo una vittoria da conquistare è ora di sparare qualche colto dai regaliamo un po' di spettacolo mannaia al cazzo mannaia mi lancio subito eh qua a destra ci sono tre casse lì eh se puoi scendere in due uno si swappa un po' via sinistra vabbè siete in due raga sono dentro eh sono dentro lì sono dentro lì a terra è one shot curatore butta il curatore butta il curatore occhio che loro non hai play niente escono loro riescono a curarli granata a frammentazione granata a frammentazione fatti tutti fatti tutti robocchino per lavora mi dissocio cesa sei troppo aggressivo c'è te la prendi un po' troppo sul personale quattro medici piccoli qua fuori da me grazie ho fatto ora devo trovare ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io oh che cazzo della gara attenzione anello in chiusura buono così raga bello start qua davanti a me si spaccano eh non vi aspetto che colpi ti servono pesanti pesanti energetici ok trovati qualche pesante materiali raccolti sono 100 sono due team eh venite proviamo a fare il giro di qua perché lì finiamo in mezzo raga facciamo il giro di qua guarda lì uno one shot letteralmente one shot vai tranquillo colpi pesanti qua da me matte eh su di qua su di qua da me a terra me devo far felice a terra un altro c'è l'ultimo resta se vuoi fatti tutti arriva devo curarmi so chi va fatto indietro raga cercate di no sta arrivando pure un altro team ma te devi cercate chi va qua non posso non posso questo la devo cazzo ma è l'altro team aspettate aspettate io sto nervosia adesso le affumi pingatemi è l'hallcrafter porco 2 non c'è il banner eh ma te non puoi craftare sì con il medico in squadra sì adesso matte ce lo diceva ieri eh sì è una figata questa pingatemi un crafter non possiamo beh ce l'ho di qua tutto a destra sì ho visto acqua acqua anche te hai sembrato di sentirli sì sì sento sparare sento no va a sparire da un'altra parte no no qua in fondo a destra no ma continuo faccio un passo avanti e due indietro ma chi era è ciao mario salva ton buonasera buonasera cosa hanno fatto l'anno a sinistra hanno annaressare oh altra l'ho visto l'ho visto no mi hanno individuato bammerino questo e poi cercherei un rival adesso è giusto non fa, non lo gioco attenzione replicature in arrello guardate, replicature in arrello guardate, replicature in arrello bravissimo e mi guarda e porco due perchè non avevo colpi nel nemesis dio canestro vabbè più 77 cioè stavo avanti a rilento cristo dio ho detto cristo dio amore I don't have bestemmiato è cesa quello che bestemmia esatto, è cesa quello che bestemmia amore io non bestemmia mai sono un bravo ragazzo non dire le stronzate sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa vada come vada vada come vada mezza valchiria che salta non dico da cosa all'altro sono in arrivo grandi cose per noi signore e signori arrivano i pezzi grossi il mio personaggio mi rappresenta un bel po' comunque che campione eh sono qui per divertirmi qualcuno è un accendino lanciati subito a basere matte subito sei tu già colmato questa è una buona zona di atterraggio tutti pronti ci lanciamo stanno scendendo tutti lì raga lì dietro luttate apritevi qua non c'è nessuno sono scesi tutti a gauntlet lì come cazzo si scrive chi è il bastardo che è sceso qua con me guarda 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 che uomo di merda cosa ti ho fregato la corazza figa ma scendi in un altro punto leccascroti di uno si buoni buoni si piacciono e qua c'è una stanzone così chiuso basta non si vada in nessuna parte ma che cazzo vuol dire Apex vabbè inizio ad avvicinarmi ai nemici ma perchè questa cosa inizia ad avvicinarmi ai nemici non abbiamo armi non abbiamo niente perché inizia ad avvicinarmi ai nemici mi piace proprio questa parte prima vittima i novellini sono sempre i primi uomoli delle uccisioni non mi dispiacerebbe fargli uomini dobbiamo riprendere la mano raga normalmente i team porco due li fullavamo in quattro secondi quando hai detto bene c'è uno zaino livello 2 con la fretta che avete le ha saltate gli scudi saltate vaffanculo dai vedo anche la mondezza che la sciamata e raccolgo non ci sono passato al lato del K7 veramente come no stavo seguendo te no? stavo seguendo a Ren ok sono un po' fuori di testa sono un bravo ragazzo fate munizioni piccole sto andando la io eh attenzione anello in cesura siamo già nell'anello siamo già nell'anello sono stati pesanti oh scudo blu qua da me c'è gente qua dentro è andato via è andato via versaglio individuale ho dei materiali sono la al craster stanno grattando apro il fuoco lancio stella ascoltate sono sottotiro inizia a 7 in arrivo capsula assistenza in arrivo andiamo alla zona di atterraggio ricarico gli scudi andiamo da questa parte no un altro team un altro team aspetta Matte buttami il robot ora buttami il robot ora Matte c'è da acceso di sta con noi capito raga come abbiamo iniziato a fightare è arrivato un altro team da me cioè gli stavo prendendo mi viene da piangere però quando è così i first party qua non mi mancavano per niente dobbiamo piccare un sacco dalla distanza prima di pushare non avevo armi dalla distanza cioè meno male che sei tornato su face sto fa molti stream e sto streamando su tutte e due mi dice da struboli che da un prossimo gennaio 2024 ben tornato Ren bella roba come sempre dobbiamo metterli in quella situazione che mezzi si curano mezzi no non sanno cosa fare e li push non scolatevi la mia birra torno dopo abbiamo un lavoro da fare quindi datevi una mossa è ora di sparare qualche colpo dalla nub ecco il campione cioè papà sarebbe fiero di me laggiù c'è una capsulare ricorda è di me che dovresti preoccuparti tenete duro è ora di scendere stordire e spaccare due team abbiamo arrivo oh davanti a te matti io ne ho messo un altro a terra c'è l'altra squadra c'è l'altra squadra buttami robot buono un culo strobot squadra eliminata stanno fregando l'altro l'altro team sono l'altro ora che si fight non dobbiamo andare raga qui c'è un nemico tenetevi forte non ti passi materiali raccolti attenzione anello in chiusura ehi gente qui c'è un nemico qui c'è un nemico uno crackato lì mi devo curare io ho matto celissimo sto di fianco morto buono venite dentro ora dovrai iniziare a portarmi indietro delle verde in più per te eh walter rilascio drone di guarigione carabin c'è una carabina con tanti colpi servono colpi energetici raga è pieno lì nelle casse ci sono della cassa interna piena ah ok il conto qua materiali raccolti ci sono accesa fulla tv fulla tv raga a me mi servono quelli grandi per i fusi pesanti ma prendendo piccoli penso per me sembra che ce ne stanno nelle casse vado un attimo giù in fondo alla mia cassa buono così lo star tra buono un culo dai ricarico gli scudi allora prendi leggeri ne sono di più mi serve il calcio mi serve c'è un per due vi serve no eh si non fa comodo in momento no eh futuro te ne do qualcuno livello 4 eh quindi via forse qui c'è un'ottica distanza ravvicinata meglio di niente si eh non c'ho celle grandi almeno con quelle piccole mi curo più veloce eh si te ne do qualcuno per tanto sono pieno aspetta eh non ah si ci stanno ma lasciate due dietro 160 dai coppia un per tre non mi dispiacerebbe ah che ne dici anche te io andrei a craftare ma obbligare si si oh vedi stanno craftando si 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 aspetta matte aspetta matte han craftato iiii eh stava craftai prendete prendete quello tu sono dei materiali sei un vero portento creazione in corso un momento no ho preso i banner non ci credo io ho raccolto i banner eh ma troppo vorresta lì ora se vuoi troftarci la cella vorresta lì arriva l'orario che non riesco neanche a parlare no ho viola comunque è troppo importante creazione in corso ma quindi dimmi cosa 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 ho ho bella marco ho trovato le shotgun di oro qua da grattare porca tra io mi servirebbero ci siete ragazzi devi curare però oh cazzo anche te matte sto ricaricando gli scudi sto ricaricando gli scudi sto ricaricando gli scudi o di che pasta siete fatti ricarico oh c'è un altro da sinistra o di qua l'ho craccato ecco la ulti vado giù qua davanti a me è uno qua sopra craccato eh 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 lo faccio lo faccio faccio che fanno faccio che fanno? sto ricaricando a terra a terra a questo qua caldo dietro a terra lancio una terminata in sopra bravo a me è traccato quello sopra che fa questo sotto? sto ricaricando a terra ancora sotto a terra ancora sotto manca l'ultimo sopra craccato craccato morto buona mi butti il robot tg bravi raga porco due belli mi servono colpi pesanti e energetici eh eh energetici qua tieno te ne lascio qualcuno io ci posso lasciartene anche io una 200 pesanti non ci sono ne qui ci sono munizioni energetiche sto ricaricando gli scudi vado quanta roba che avevano questi dov'è che l'avete ucciso l'altro? dentro lì proprio ascolta sto chiamando una capsula assistenza no ne manca uno no no te l'ho lasciato ah ok un minuto è che può forza più cose se non sbaglio si va benissimo va benissimo oh ma mi fullo di granate adesso con questa scusate ma dove sono le granate? chi ha le granate? 45 secondi l'anello al vicino ehi datemi le granate eh ho due finisce ce l'avete voi? e ho sei celle grandi io ce l'ho due io ce l'ho due non basta una 30 secondi l'anello al vicino l'anello al vicino eh le celle magari dammene un paio io ce l'ho solo ma è una testa eh una te la lascio anche io qui c'è una batteria a scudo ah a coppie a tre a tre si una coppia con quello normale 10 secondi l'anello al vicino niente mi servono colpi pesanti non li trovo vabbè eh cratta lì cratta lì cratta lì cratta lì no no va bene ho 70 di scorta e 249 nel volt e li posso fare anche io te li posso fare no no mandati tranquilli vabbè ci siamo 9 squadre eh raga eh sì allora teniamoci qua sopra un attimo eh sto andando infatti non riesco a salire non riesco a salire porca tu si voglio essere cattivo lo sentite è in arrivo una capsula assistenza andiamo subito di là anzi fammi vedere qua sotto se trovo due colpi ma non me l'ha preso la corda ma il body è bloccato matto non mi ha preso la corda no non mi servono questi leggeri qua davanti arrivava gente eh round 3 inizio controlla rovescia anello qua dietro li avevamo oh oh sono rimasti dietro avevo andato la capsula che scendeva ma non conviene stiamo andando fuori infatti sì no volevo dare un occhio qua perchè si fighttavano volevo vedere se riusciva ad arrivare a beccarne qualcuno che si curava magari ma niente eh no dove eravamo noi almeno era avanti molto più vicino a la safe la safe adesso è molto vittima ora noi riusciamo a pensare a un push a più ma tutto il team prendiamoci in giallo in posizione andiamo tipo qua ora c'è dun per due in terra eh ma sinistra? sì 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 lì so tre raga prendiamo la safe prendiamo la safe azzoniamoli mi ha bloccato mi ha bloccato fa la corda mi ha bloccato mi ha bloccato mi ha bloccato un secondo mi ha bloccato mi ha bloccato mi ha bloccato la mia destra qua verso il craccia da questa parte andiamo occhio rimaniamo a mezzo eh mi stanno fuciando l'anello è vicino 45 secondi sono lì eh pericolo vicino ok prendiamo l'edificio prendiamo l'edificio qua davanti venite eh sì sì è quello che avevo sentito premere archiom grazie per il follow ricarico gli scudi ricarico gli scudi ricarico gli scudi andiamo di qua andiamo di qua a fare il for party di qua andiamo a fare il for party di qua oh ma accano 30 punti il per arrivare il rosso ricarico gli scudi ricarico gli scudi ricarico gli scudi attenzione nenni fuoco 63 di fattolo viola dov'è è sceso sicuro Ma che io ho tirato l'alti 27 Abbiamo un altro tipo di qua Eh, pusciamo questi qua davanti Allora, raga, piuttosto Ti hanno distrutto E' da sopra Adesso hanno sparato da sopra Davanti a me uno E' mio, e' mio, e' mio, ce l'ho questo Morto subito C'è un altro team, c'è un altro team Ragazzi, ce n'è uno che stava andando su di là Mi sto curando Me la caverò E' pesanti qua E' caricatore oro Ce l'ho, ce l'ho caricatore oro Raga, andiamo insieme, andiamo insieme Mi fa vaffanculo qua lì Mi sa che abbiamo gente accanto Venite, venite, venite Lascia li feitare tra di loro Audio Gente davanti a me Due almeno Raga, venite con me Venite con me Prendiamo casa Basta, basta, raga Oh, che cazzo Io ho fatto questo, raga Mi serve il robot Scusatemi, raga, vi ho smoncato Mamma mia, questo cosa io ho fatto, raga Ho finito le munizioni energetiche, sapete? Io ne ho un po', se ti serve con il caso Prendete tutte le nade, raga Teniamo il piano sopra Venite il piano sopra Siamo il piano sopra Siamo il piano sopra Sì, sì, sì Uno one shot Ragazzo da pushare questi sopra Sono rotti completamente Andiamo, andiamo Due a terra Ottimo, attimo Qua sotto, qua sotto colpi energetici e manetta Qua sotto da me colpi energetici e manetta Arrivare, arrivare 109 A me, a me servono colpi pesanti Contenuti vincolanti In che senso hanno? Ci hanno granate questi Sì, sì, sì Si può, si può, si può Perché non sono né partner, non è niente Quindi io posso volendo Allora, ho visto un qualcosa muoverci da giù Siamo tre squadre, raga Facciamoli fightare noi, per l'amor del Cristo Venite Sono fiero di voi Teniamoci tipo qua dietro Sti camion e tutto Me ne frega un cazzo Ecco, mi sparano Qua sono safe Eh, me lo dovete coprire Me lo dovete coprire Per farmi arriva là Andare al posto al foro Mi riesci? RICARICANDO GLI SCUDI Sto ricaricando gli scudi Bella, guarder Viulta Oh, là sopra uno Raga, io me ne sto qua dietro fermo Non picchiamo neanche Non serve Se stanno a fai-ta, eh Andiamo adesso, andiamo adesso Ce n'è uno subito qua a sinistra, eh Sì, eh, due a testa, eh Prendiamo lui, prendiamo lui prima Occhio alla safe Ho ultato, cesa, eh Da te, ho ultato da te Eh, vado avanti Dopo Dio, vieni qua No, no, per stare a fare felice Stare a fare felice Ahia, m'hanno bloccato Sopra di me, sopra di me Non riesco a salire io Era sopra di me Quindi era qua da dove siamo Dai, da solo, da solo, raga È one shot, è vostro Dai, cazzo, ma avevo detto niente Questa ci voleva Questa ci voleva 579 punti, raga Porco demonio Quanti punti avete fatto, voi? Un attimo, esatto Stavo guardando le motte del mio personaggio 8 kg ho fatto, buono un culo Dai, l'ultima, raga Ciao Giovanni Sono argento, ragazzi Sono salito argento No, 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 ma è già partita No Non ho visto i punti No, non è partita Non è stata la lobby Eh sì Mi hai dato quando è stata la lobby? No Ah, ok, no Valgato di merda 977 Cate kg ho fatto, madonna Non fai Eh, io 8, raga Guarda che abbiamo Con due Abbiamo Con una salata Vado a pisciar Mi mancano tipo 100 Neanche 100 punti Per arrivare la gente Eh, no, figa Io Ma perché io so bronzo 2, raga? Non c'è più bronzo 2 So bronzo 2 850 853 su 1000 Cioè, porco 2 Faccio sempre più kill di tutti Mannaggia al cazzo Su quello più indietro Incredibile sta cosa Ah, il gioco che c'è da con te Non so che dirti E adesso cazzo Faccio i 1000 punti Bello Facciamone un'altra Che arrivo a oro Dove vuoi Johnny Comunque, dove vuoi Polvere da sparo Odora di vittoria Sapete dove hai imparato Tutto quello che so? A scuola di botte Cosano gli occhi Tranquilli State attenti E non mollate mai Ecco il campione Io cane non stare a fare il boss pure qui Fra, com'è possibile che si porti in tutti i giochi Ho fatto le mani su Amazon E ci ho comprato Andiamo qua di cattiveria, dai Tutti pronti, ci lanciamo Grazie Anto comunque Aspetta quando diciamo Dai l'ultima Moriamo sempre due contropartita Lo start, dai l'ultima, dai l'ultima Questa non vale Questa non vale Dai l'ultima Dico l'ultima, stasera c'ho la luce Eh, è vero Mui c'è sta Eh? No vado a piocca Non c'è di te No vado nell'altro edificio Ti dà un attimo Non c'ho un'arma, niente Ho solo due granate Ma che be... Raga di là si stanno spaccando Raccogliamo due armi al volo Andiamo, eh Anzi io sto già andando C'ho pure lo scudo viola, raga Chi cazzo me lo fa fare? Eh certo Noi abbiamo lo scudo bianco Eh ma te lo crafti al volo Dai, 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 dai Che te crafti? Tu già stai là, stai Come fai cazzo? Come fai cazzo? Ha sparandogli? L'anello è lontano Donnerine Ah Mi scelta in quel senso Prima vittima E questo è solo l'inizio Gente Sono tutti sotto di me Uno one shot Sto ricaricando Eh, sono l'inizio Eh, aspettiamo un attimo accesa Andiamo qua dentro Qua non dovrebbe essere l'ulto esatto Scudo blu da me Eh, zaino blu scusami No, no, no No, accesa Eh, accesa indietro Cazzo Hanno beccato anche loro Ok, hanno beccato anche loro Perfetto L'ultimo che arriva mi compra una cassa di birra Eh, è solo che mi sta arrivando anche un altro team da dietro Eh, cerca di venire da noi se riesci Ah, sì, dai qua Sperando che non mi cagino Non guardatemi, sono figlio di nessuno Eh, sono figlio di una stronza Nooo, poveretta Oh, ma sai che mi prendo il triple take Lascio giù un flatline se vuoi No, no No, no Guarda come lo schifo adesso Eeeh È arrivato uno, eh Gente, gente Mi sta tipo là Io sono qui di fianco a me Eccolo là sopra Bersaglio individuato Attenzione Un canello in chiusura One shot Eh, io vorrei farlo Che c'era un altro 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 No, no, no Sono... Devi give up Fare Vai, vai, vai Provaci Ritengo i pegnanti da qua Uno crackato Mi stanno pushando Però Devo andarmi anch'io 101 Eh, ne sei solo Eh, ho difeso Lo zì Eh, mi ha infottato Bravo Lo sapevo che mi prendeva Buttami subito il robot Buttami subito il robot A terra C'era un altro Qua sopra di noi 1002 Mi devo curare Cesare Dai, calmo un attimo Oh, è arrivato Usa lo scudo Usa lo scudo Sto ricaricando Sto io Devo agire in stretta C'è un'altra Granata in arrivo Mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi ha ucciso, raga Altra squadra Mi ha chiamato Un'altra squadra Al gioco Sì, Marco L'ultimissima L'ultimissima Start, start, start No, ancora vai L'ultimissima Amore Eh? Ah, ok, scusa E? Beh, stavo guardando la live Quando dicevi Ottimissima Ottimissima Sto ricaricando Sto ricaricando Sì, come noi Impensionati Proprio così Sono qui Per dare spettacolo I caricatori Usano i civili Per i capelli Questo sì Mi rientro di conto Che si vergogna Perché infatti L'ultimissima Gli F2 Tutti i cristiani Guarda Sì, è il mio dromo E mi qua E mi ho visto di tutto La vittoria Sera Erika 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 Enrika 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 Il suo nuovo nome C'era Enrika Sono la Jumpmaster So cosa fare Si è vista Si è vista Braccia Cosce È stato bello Finché è durato Andiamo al bunker Qua sotto Dai Tenete duro È ora di scendere Stordire Spaccare Non è bello Un film solo Alla Marco Cos'è diventare papà Figa Una cosa semplicissima Prendilo Ficchie Sei a posto Auguri comunque Marco Abbiamo uno con noi Eh Guarda Un nemico È appena accettato Tutti giù Eh Andiamo Andiamo Via 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 Perché Non andare di dentro Vincono loro Il fight adesso Perché Io non ho armi Non ho niente C'è due C'è una cassa Alla Uno in terra L'altro one shot A terra anche l'altro Arriva l'ultimo da sopra Sì 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 Ve lo fate voi Ci proviamo Ti provo Adesso è scappato Un mastiff con quattro colpi Ha scappato solo Mi sto curando Butta il robot va Te la caverò Non è qua è qua E lì 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 Dove hai fatto E qua è qua 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 L'avete fatto? Sì 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 Ho tre colpi Torri caricando gli scudi Sì 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 C'è gente là davanti raga Eh devo curare No no mi sto a spostare io Venite uscite andate subito a sinistra Non ho colpi di niente Dieci secondi L'anello è proprio lì davanti E dall'altro lato ci avevamo da luttare Le casette No uno mi sta a pusha Sto a messa a pusha Raga ne ho one shotato uno In terra uno Non ho colpi Eh raga ho finito i colpi di tutto One shot davanti a me Diciotto rosso Mi servono colpi Non ho colpi C'è un altro team C'è un altro team C'è un altro team C'è un altro team raga Mi sto curando Eh niente ho colpato tutto Io sto scappando Leggeri 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 Non ce l'ho Qui c'è un buffone Qui c'è un buffone Qui c'è un buffone Matte non ci sono io E watch out e watch out E ti sei Allora ragazzi Sto ricaricando A te Eh Mi servirebbe il robot tipo Eh ce l'ho ma non sto buttando io Devo darmi una sistemata Questi mom mi pusha non sicuro Diciassette colpi in un'arma 45 nell'altra O sono perfetto O siamo morti Potremmo pure beccare eh Dato che Possiamo craftarlo Via 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 becco ho finito tutto Nooo c'è un altro qua di spalle Via 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 io passo di qua Matte ci provo Matte ho smoccato corri Eh sì 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 ci provo Ho Zero vissamenti Non ho niente io lo zii Niente Che è ludato Dove la gente si è ludato A raccogliere gli avanzi della gente C'è gente anche qua dentro Sì E io ho veramente pochi colpi Qui c'ha uno zaino Livello 2 Devo sperare nella mia cassa qua Devo sperare qualcosa nella mia cassa qua Te prego Avete lo scudo termico? Eh mettere pure pure a me quelli Tornimenti extra da questa parte Non c'è di che Rilascio drone di guarigione Ricarico gli scudi Ma per tre quelli Sto ricaricando gli scudi Veteran Ho 17 colpi e 20... Cioè mamma mia Ricarico gli scudi Non ho loot qua Oh C'è un nuovo leader uccisioni Nuovo leader uccisioni Occhi aperti Rifornimenti extra da questa parte Oh mio dio Eh leggeri 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 qua Vai 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 Ce li ho Ce li ho trovato qualcosa Vai tranquillo Ce li ho Fatti leggeri qua Qui c'è una granata termite Belli pesanti E energetici mi servono Dave a bunker Dove siamo scesi in pratica Se potete tornare Se potete riuscire anche a fare Belli Tu hai uno scudo termico? Si Buono Facciamo il banner qua al volo Buono 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 Apro la roba io vai dai vai già al crafter Ce li hai già? Si si 35 Si Materiali raccolti Posizionale Un attimo Sto muando qualcosa Tutto curerato Non è così veloce eh? No ma è qua vicino Non è 600 metri No no te resto qua davanti Ma che sei matto No no lo resto io Vieni in safe Vieni in safe Vai tranquillo Non lo so qua davanti non è loot Ma c'è tutto il muro che ci divide Cioè se non saltano fuori adesso non possono Guarda no Guarda no Guarda là Guarda qua Guarda qua Bello Dai no Fammi scinta Guarda che se volete essere un buon padre non sarà facile, esatto Però credo in te, gli insegnamenti del rennaio Oh, qua è tutto, non loot Allora, guardate che vi lascio un po' di roba qua Guardatemi i ping Guardatemi i ping Ma tu hai buttato il robot figlio di una stronza, non dici niente È rimasta qualcosa, allora ci sono Mi sto curando No, ho preso tutto Guardate la viola bella da casa Ecco è scomparso, lo sapevo io che ho prenduto il tuo culo Dai, una seringhe e dai Un po' più Due Replicatore in discesa Le terbono cure ce l'ho, eh No, 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 non le ho grandi Poi va bene, le ho Grande cofini per qua, grande uno la vostro Eh, volentieri Carabina C'è una capsula rifornimenti aperta Jenny Qui c'è un kit medico Carabina, dove la terapina? Qua, alla del Qui c'è una capsula rifornimenti aperta Io, io, io la voglio la carabina Ah, fermo Devo darmi una sistemata Qui c'è un kit medico Eh, ho perso con la cella Il caricatore energetico è stesso Eh, ne avevo trovato uno Guarda qua, viola, che culo Bello Dove? Qua No Ah, sì Come no? Ho visto Per tre pure lì Già preso, già preso, per tre Prendi da due Qua? Qui c'è un'ottica Medio raggio Andiamo a prendere questi qua che si fightano, raga, dai Colpi pesanti e non ho troppi, troppi, troppi colpi, però, eh No, quello neanche io, però, vabbè, dai Cioè, stanno, facciamo un four party di quelli arroganti Saliamo qua sopra Aspetta, Renn, che siamo impendiati Sto salendo da un po' indietro, io, sto salendo Vediamo di che pasta siete fatti Uno in terra Letto trim, stava sotto, eh Guardate qua, 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 qua Bella roba, questo Il cadavere lì No No Mi devo far fenice Non ci sono Mi ha preso la granata Ma te riesci a venire a funtermi il robot Niente, niente, sono bravi queste cose Ci hanno pusciato proprio dei cattiveri Sì, ma adesso stacco, se no, è l'ultima, basta Ma è bene, a terra, eh Sto lasciando la life in qua Digi, 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 Matte Porco, due, Matte No, no Ma no, ma non è che sto buttando il robot prima Dimmi che ce l'ho scudo Curati prima, Matte Cioè, sul mio cadavere c'è lo scudo, eh Io ce l'ho lo scudo Un attimo Curati però, curati Mi curo Non mi prenderò Allora, non mi prenderò il banner Dov'è, dov'è, dov'è Ma Caldo vusciato Caldo vusciato Qui c'è un nemico Ha voglia di sprecare bende a parte Prova il rest, prova il rest, Anto Vieni dietro, Matte, dietro la roccia E' da te, e' da te chiaro sto facendo del mio meglio non osare tirare le cuoia proprio ora che siamo in testa di robot va bene va bene ragazzi gg basta buonanotte buonanotte come devi di questo che cazzo stava facendo non lo so rega non lo so tutto il tempo fuori safe arrivato dopo a rompere il cazzo rennaio buonanotte buonanotte rennaio